Cari amici e cari ascoltatori, cominciamo adesso da oggi a leggere le parabole. La prima che leggiamo è la parabola del seme che troviamo nel Vangelo di Matteo e di Marco, la leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo tredicesimo e i versetti sono dall'uno, con la spiegazione tutto il capitolo, fino al versetto 23. Cominciamo con il leggere. Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e la porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse, ecco il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in un luogo sassoso dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine, le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi intenda. Poi chiedono la spiegazione, i discepoli, si avvicinarono i discepoli e gli dissero perché parli loro in parabole. Gesù rispose perché aveva dato di conoscere i misteri del regno dei scegli, allora non è dato. E poi la spiegazione che probabilmente è della comunità di Matteo. Voi dunque intendete la parabola del seminatore? Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radici in sé ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta. Ecco, la domanda da farsi prima di tutto, perché è importante quando si ascoltano le parabole, domandarsi ma a cosa stava succedendo, a che situazione Gesù Cristo, di cosa si è reso conto, perché non era un maestro teorico, un docente universitario. E gli esegeti dicono che le ha pronunciate questa parabola del seme in un momento di crisi, ma non da parte di Gesù, ma da parte di coloro che lo seguivano, è chiamata la crisi galilaica. Cioè dopo, in cosa è consistito, dopo un primo momento in cui ha suscitato entusiasmo, no? Quando ha annunciato, ed era questo il primo annuncio, il regno di Dio è qui, è vicino, convertitevi, credete a questo Evangelo. Ecco, molti fraintendendo hanno immaginato, hanno capito, finalmente le cose si mettono a posto, dal punto di vista politico e anche religioso. Politico perché i romani sarebbero dovuti ritornarsene a Roma, non dominare più in Palestina e Dio avrebbe fatto piazza pulita di quelli che non erano rintenuti più, ecco, dei cattivi. E Gesù Cristo si è accorto che piano piano molti hanno cominciato per delusione ad abbandonarlo. Eh, Gesù non è passato di successo in successo. No, 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 no. Ecco. E il suo percorso non è stato costellato da tanti successi, da applausi, accompagnato da applausi. Si è reso conto, ma il Vangelo lo dice, ora non abbiamo tempo per, ma se riprendete in mano il Vangelo vi rendete conto, da quel momento molti lo abbandonarono, da quel momento molti lo abbandonarono. Perché rimasti delusi? Perché hanno visto che le cose continuavano ad andare come erano sempre andate. Gesù ha voluto rispondere e ha detto, questo è il metodo parabolico, non si contrappone, eh. Comincia sempre, è una forma dialogica la parabola, per questo è efficace. Non mette sulle difensive quelli che obiettano, quelli che lo ascoltano. Comincia col dare ragione, avete ragione, è vero, è vero, è un fatto reale, però, però la parabola è uno strumento di dialogo per aiutare le persone, in questo caso persone che erano sfiduciate, amare, deluse, dal loro punto di vista, perché dal loro punto di vista avevano ragione, almeno imparzialmente, a un altro punto di vista, aiuta a cambiare ottica. Non nega gli avvenimenti, no? Non ha detto mai, adesso, da ora in poi che io sono venuto, le cose andranno meglio. Ha detto, deve cambiare modo di leggerli, di interpretarli. Ecco, le favole sono un modo, un'aiuto alle persone per scoprire il senso di ciò che accade, e questo è fondamentale, è fondamentale, perché noi, erroneamente, pensiamo che staremo bene quando tutto andrà a posto, si metterà bene, e questo non accadrà mai. Staremo bene, e il modo per stare bene è questo, usare bene gli avvenimenti, coglierne il senso, perché, secondo le sante scritture, l'unica causa dei nostri errori, delle nostre sofferenze è la non conoscenza, non cogliere l'utilità degli avvenimenti, che noi definiamo belli o brutti, favorevoli o sfavorevoli, secondo la Bibbia sono messaggi. E qual è il messaggio che Gesù vuole trasmettere con questa storia? vuole trasmettere questa, e dalla forma letteraria si capisce bene, parla di tre quadretti, di tre tipi di terreno dove il seme non fa frutto, ma poi di un quarto tipo di terreno dove il frutto dà frutto in modo sovrabbondante e sorprendente, perché, non l'abbiamo detto nell'introduzione, ma lo ripeteremo costantemente, nelle parabole va trovato il punto centrale, lì sta il messaggio, ed è dove suscita sorpresa, qualcosa di inatteso, un seme, un chicco che dà cento chicchi, no? È impensabile. Gesù dice, è normale, avete ragione, un contadino quando semina dà per scontato che un po' di seme vada sui sassi, un po' di seme sulle spine, un altro seme sulla terra rocciosa, però il seme che fa frutto ricompensa tutte le perdite, tutto il seme che va perso, quindi è una lezione di fiducia e di ottimismo, e questo è molto molto importante, aiuta, cioè non, aiuta a leggere la realtà, nella realtà, nella vita quotidiana, ma certo che ci sono momenti di difficoltà, insuccessi, l'importante è non ricominciare, smettere di ricominciare, arrendersi, arrendersi. La vita, ecco, e la semina è un'immagine molto frequente nella Santa scrittura, da proprio l'idea della vita è una semina. Come dire, tutto quello che noi compiamo, ecco, fa effetto, è efficace, niente è insignificante, ma tutto va reso importante e tutto è efficace. Nella spiegazione, naturalmente, il racconto prende, la spiegazione dà un'altra tonalità e dice, non è il frutto che non è, non è il seme, scusate, che non è buono, dipende dall'accoglienza dei tipi di terreno, quindi è un invito a dire, ecco, guarda, chiediti io che tipo di terreno sono, che tipo di terreno sono, perché, quante volte ci viene a chiedere, ma come mai la parola di Dio non fa effetto, ma perché non mi cambia la vita, ma perché questi avvenimenti che succedono, questi messaggi che Dio mi manda, non mi convertono? Ecco, beh, perché forse a volte sono pietra, sono sasso, sono spine e parla come, simbolicamente dice, non so, sono gli affanni, le preoccupazioni, sono troppo preoccupato, oppure, oppure viene Satana e Satana vuol dire lo scoraggiatore, il depressore, Satana, questo è il significato del nome Satana, no? È il compito, il satanello ti dice, guarda, non ci riesci, non sei capace, rinuncia, te lo dicevo, basta, sei fatto male, sei sbagliato, oppure, d'altro, dell'entusiasmo, ma manca la persistenza, no? I vari tipi di terreno. Ecco, accogliamo questo messaggio, sentiamo che continuamente Dio semina in noi, semina, la storia è una semina, Dio è presente, guida la storia e i messaggi, gli avvenimenti sono messaggi e sono utili, ecco, ci vogliono, sono spinte e tutto, tutto ciò che accade, tutto ciò che è utile per la nostra crescita, a noi il compito di essere terreno buono, perché il seme dia frutto, perché i doni di Dio in noi non rimangano senza frutto.